musica 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 bella bella musica 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 appunti musica musica Non è veramente tardi domani Croci, sotto l'albero, ma non li faccio 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 Fuori, 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 guarda Ricky, Ricky dice che bello, questo va benissimo, ok, non guardare me, prendi il pacchetto, tiralo fuori, dice ah che scotto, ok felici, ok, perfetto, si può andare, stai lì un attimo, addormentati, anche perché è questa dove è, deve scaldarsi quella, è l'alimentazione, l'alimentazione c'è già, no, no, dammi che la porto là proprio, perché se no la lascio in un altro giro, metterò più lì davanti, poi tanto la scondi là nei pacchi, no, ma la lasciamo, tanto il fumo rimane lì, iniziamo a riprendere quando ti rovi la macchina del fumo, ah ok, ti scondo da dove? Ah tanto non si deve scaldare la macchina del fumo, da dove? si vede che il fumo arriva un po' da una parte, però, ok, ferma col fumo aspetta che il babbo natale se ne va via 1, 2, 3, apri gli occhi meglio, 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 così si vede o non si vede il babbo natale, rimane un po' lino 7, 3, 2, aspetta, azione scartalo pure, va bene, basta, lì è finito se c'è troppa luce sotto quella blu quella si spengono, queste canifaretti li spengono si, perché poi dal buio accendiamo l'albero ok e poi andiamo piano piano su, però dobbiamo bloccare l'esposizione ok mi piace a 2 3 2 3 2 3 non dobbiamo mica berli davvero ormai sono pieni